Musica Qui con noi all'Ischia Film Festival abbiamo Filippo Kulberg che è qua per presentare un'autobiografia, l'autobiografia di Bette Davis, la prima scritta da Bette Davis e che lui ha tradotto e adattato. Filippo, ce ne vuoi parlare? Cosa hai scoperto di questa grande attrice? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per avermi invitato all'Ischia Film Fest, per me è un grande onore essere qui. È vero, l'autobiografia inedita di Bette Davis, lo schermo della solitudine, della quale si evince una forte fragilità, una donna forte all'apparenza ma in realtà molto sola, da qui il titolo lo schermo della solitudine. Una donna che ha rischiato tutto, che si è giocata a matrimoni, figli, pur di continuare a lavorare, pur di trovare quel qualcosa che alla fine non ha trovato, se non appunto la sua solitudine. Però è un personaggio molto interessante che ancora oggi è molto attuale, una diva di Hollywood, un'anti-diva di Hollywood che ha vinto due Oscar e che non ha rinunciato alla sua carriera pur di lavorare fino alla fine. Quindi è un grande personaggio che consiglio a tutti. Lei aveva un carattere molto difficile, una cosa che però nel libro ci racconta come un aspetto positivo. Ci spieghi perché? Beh, sì, è stata una donna molto forte, si è creata tanti nemici. Lei si era resa conto che avendo molti nemici avrebbe potuto non danneggiare la sua carriera ma permetterle invece di andare avanti. Quindi nel momento in cui lei ha accettato questo compito, il compito di essere attrice, di conseguenza ha accettato anche i suoi nemici. Quindi non si è mai arresa e ha continuato fino alla fine a lavorare. Libre è molto aneddotico, però lei ci racconta in modo frammentario la sua vita, la sua carriera, le sue scelte, il fatto di essere stata appoggiata solo da una madre ed essere stata abbandonata da un padre così piccola, in tenere età, infatti ci racconta che adesso possiamo andare a fare un picnic dal momento in cui il padre se n'era andata e l'aveva lasciata, a lei, alla madre Ruth, Fevor, e alla figlia, alla sorella più piccola, Barbara. Però è molto divertente anche scoprire degli aspetti di questa attrice che non si conoscevano dal momento in cui questo libro, appunto come dicevamo prima, è stato tradotto e curato da me dal professor Maurizio De Benedictis ed è uscito dopo 50 anni. Quali aspetti hai riscontrato nella traduzione e quali difficoltà? Beh, riuscire ad adattare un libro che lei ha scritto nel 62 usando anche un linguaggio molto particolare, molto forte, non è stato un compito così facile, però l'adattamento ci ha servito più che altro per capire al meglio la sua personalità, il suo forte carattere ed è stato molto divertente, è stato difficile soprattutto passare da un linguaggio all'altro dal momento che lei alterna ricordi del passato ai ricordi più attuali, però è stato molto interessante, penso che il lettore sarà molto felice di questo. Ascolta, questa è solo la prima autobiografia di Ben Davis, ma ce n'è una seconda, una seconda che tu hai già tradotto e che uscirà prossimamente. Ci dici quali sono le differenze e che cosa ritratta in questo nuovo bilancio? Bene, nella seconda autobiografia che lei ha scritto nel 87, diciamo della quale stiamo ancora decidendo il titolo, lei fa un bilancio, una sorta di bilancio della sua carriera, della sua vita di attrice e di donna e ad esempio rinnega il fatto di essere stata paragonata al personaggio di Margo, di Eva contro Eva Paola Bautiv del 50 di Menkiewicz, negando se stessa, quindi se nella prima autobiografia lei era Margo, nella seconda autobiografia ultima del 1887, Disendet dice io non sono Margo, non sono più quel personaggio, quindi la favola è continuata per lei senza marito, ad esempio. Ascoltami, Ben Davis è anche un personaggio che ti ha fatto innamorare del cinema, ci racconti questa cosa? Beh, io ho iniziato ad amare il cinema all'età di sei anni, grazie a mio fratello Alberto, che mi face vedere la pellicola che fine ha fatto Baby Jane appunto del 62, è uscita in concomitanza della sua prima autobiografia e vedendo questo film insieme ad un'altra grande attrice di Hollywood, Joan Crawford, mi ha spinto a studiare il cinema, quindi ormai vent'anni fa sembra che sto parlando di cose vecchissime, però è la verità, ho iniziato da bambino ad amare questo mondo e continuo ad amarlo, a studiarlo, ad approfondirlo e spero di un domani di poter continuare come sto facendo questa strada, lunga strada verso casa del cinema. Benissimo, senti, perché dovrebbero leggere questo libro? Che cosa si può scoprire anche per le donne moderne? Che cosa può insegnare Ben Davis? Beh, cosa può insegnare? La gente deve leggere secondo me questo libro perché oltre ad essere ancora molto attuale, sia lei come personaggio, può insegnare loro una grande forza d'animo, la forza di non rendersi mai, di continuare a lottare nonostante le difficoltà della vita, quindi un personaggio veramente attuale che dà tanti consigli anche all'interno del libro, però ovviamente chi potrà leggerlo scoprirà questo ed altro. Benissimo, grazie.